Ciao ragazzi, 30 e 31 gennaio 2019 a Roma, corso in aula in Solidity. Solidity è il linguaggio di programmazione Ethereum con il quale si sviluppano i smart contract sulla rete o sulla blockchain di Ethereum. La società che organizza questo corso è CEN Academy, è una società con la quale collaboro spesso, hanno aiutato tutte le ICO famose italiane, eccetto Edu e poche altre, a sviluppare contratti di token sale, token ARC20 e cose di questo tipo. Quindi loro per quanto riguarda la programmazione in Solidity qui in Italia sono senza dubbio tra i migliori. È un corso molto valido, a mio parere si terrà in due giornate, 30 gennaio dalle 2.30 alle 6, 31 gennaio dalle 10 alle 6. Ripeto, il corso è a Roma, vi lascio il link qua sotto in descrizione per chi volesse dare un'occhiata. Mi sembra che attualmente manchino solo 8-9 posti, quindi non ci sono tanti posti rimasti. Per chi voglia partecipare è bene avere delle conoscenze di base, dei requisiti, perché altrimenti si fa fatica a stare dietro al corso e a capire tutto il programma. Se avete dei dubbi sulla vostra conoscenza o sui requisiti, vi lascio il link di Telegram con il quale potete contattare i team di CEN Academy, quindi potete chiedere direttamente a loro. Però sicuramente come conoscenze minime di base si deve possedere almeno la conoscenza di un altro linguaggio di programmazione. A fine di questo corso è possibile anche trovare lavoro, perché sia loro che le società con le quali collaborano stanno cercando nuovi talenti, quindi secondo me è un corso che vale la pena dare un'occhiata. Ci vediamo al prossimo video, ciao!